oggi 25 novembre 2020 è venuto a mancare diego armando maradona ho preso la notizia pochi minuti fa e ho deciso di dica di dedicargli questo video sperando di esserne all'altezza chi era diego armando maradona un uomo di origine napoletane ma nato e cresciuto in argentina che è certamente stato uno dei più grandi calciatori del mondo di tutti i tempi secondo molti il migliore in assoluto e non è una cosa da poco perché alle molte persone che parlano del calcio come di un gioco di calciatori pagati anche troppo vorrei ricordare che ci sono diversi tipi di modi per eccellere nella vita e diversi tipi di intelligenza come c'è il grande scienziato che ha un'intelligenza di tipo aritmetica deduttiva razionale così c'è l'artista che è un'intelligenza di un altro tipo più artistica però appunto così ci sono i grandissimi sportivi che oltre avere alcuni molta volontà nell'allenarsi hanno dei riflessi eccezionali delle capacità di coordinamento motorie ora non so come si chiama esattamente questo tipo di intelligenza ma certo che Diego Armando Maradona ce l'aveva sviluppata come forse nessun altro al mondo l'ha avuta finora veramente un fenomeno a tutti gli effetti io purtroppo non ho mai avuto la fortuna di vederlo giocare dal vivo però insomma ho visto le registrazioni in tv e quello mi basta per quanto io poco tecnicamente mi intenda di calcio perché sono tifoso della Fiorentina lo seguo ho simpatia anche per Napoli tutti sappiamo cosa ha significato Maradona per il Napoli d'altronde lui era anche la sua famiglia era originaria di quelle zone mi sembra e che dire perché ho fatto questo video oltre che per rendere omaggio così spontaneamente scusate se questo video sarà un po' sconclusionato ma lo sto facendo così un po' a braccio improvvisandolo non so neanche bene che cosa dire e non voglio essere ipocrita dicendo che sono addolorato perché io sono addolorato per i miei parenti stretti e gli amici che conosco quando la morte colpisce qualcuno e colpisce non solo lui ma milioni di altre persone ogni giorno sì non dico che ci si fa l'abitudine ma quasi mi colpisce quello che lui ha rappresentato perché quando se ne va una persona unica ed eccezionale è sempre una perdita una perdita per tutto il mondo qualunque sia il campo in cui questa personalità questo genio se si è espresso un'altra cosa importante da dire sulla morte prematura di questa persona e che è stata per appunto prematura perché maradona aveva appena 60 anni e so che in passato e penso anche attualmente avesse dei problemi di tossicodipendenza in particolare da cocaina questo già negli ultimi tempi in cui giocava mi ricordo che a un mondiale fu estromesso proprio perché fu ritrovato positivo alla cocaina e qui mi viene da pensare perché io sapete che sul mio canale non per farmi pubblicità ma è funzionale il discorso che sto facendo io mi occupo di lotta al tabagismo io sono stato tabagista per tanti anni ne sono uscito probabilmente mi sono salvato la vita ed è un po la mia missione ormai quella di aiutare altre persone a uscire dal tabagismo ossia detto in parole povere a smettere di fumare cosa che faccio con successo ormai da qualche anno e ne sono molto molto contento e siete sempre invitati a scrivermi in privato se avete un problema di questo genere la mia risposta è gratuita e di solito rispondo abbastanza presto sappiate che vi sono vicino che la soluzione c'è ma la soluzione purtroppo non è facile da vedere non è facile da vedere in questo mondo in questa società e probabilmente se diego armando maradona è morto non dico che ce l'ha sulla coscienza qualcuno ma dico che se si affrontasse il problema della tossicodipendenza poi non so quali sono tutti i problemi di salute che lui aveva ma sicuramente la tossicodipendenza non ha aiutato e non ha aiutato il quadro clinico generale che è fisico e psicofisico il quadro clinico generale di una persona e io sono sicuro che non voglio gettare la croce addosso al cattolicesimo perché l'islam l'ebraismo e anche i sistemi ati totalitaristi tipo quello comunista sono un po tutti uguali in questo hanno una concezione moralista che non affronta il problema della tossicodipendenza della malattia di una persona in questo senso dandole la croce addosso dandole di sbagliato e di drogato di vizioso e colpevolizzandolo mentre le persone che hanno un problema di tossicodipendenza sono delle vittime che hanno un problema di salute un problema complesso per cui sono finiti schiavi di questa dipendenza che non li porta gioia perché il moralista pensa che il drogato cerca lo sballo facile la via facile il fannullone il drogato quelli che vogliono fare sesso per il piacere tutte cose che voi moralisti odiate ma che invece sono indice della vostra malattia mentale del vostro senso di frustrazione e questa mentalità rovina le persone il problema della droga e delle terribili tragedie che porta questa dipendenza è proprio originato da voi moralisti che gettate la croce addosso da quelle a queste persone le dite che sono sbagliate che compiono peccato che anche il peccato è un'invenzione e quindi queste persone finiscono per aggravare i loro problemi cercano di sfuggirne perché si sentono in colpa ma poi ci ricascano e non capiscono che il piacere non è nella droga ma nell'uscirne perché nessuno li sa guidare nella strada per farlo e sono sicuro che anche questo problema con la cocaina sia successo a questa persona che ci ha lasciati prematuramente oggi ora lui è famoso e dispiace particolarmente per questa tragedia ma tante sono le persone come lui che hanno problemi di tossicodipendenza e di conseguenza di salute ma può essere dipendenza da fumo da alcol da gioco può essere il vivere una vita in condizione di schiavitù mentale vivere in una famiglia che non si vorrebbe vivere una vita che non si vorrebbe sentendosi sempre in colpa per non essere mai abbastanza perché questo che ci inculcano in testa ma è anche a questo che dovremmo liberare ribellarci mentalmente quindi ora alla fine di questo discorso un po sconclusionato improvvisato perché ci sarebbe da pensarci bene a come organizzarlo scusatemi se mi sono un po confuso se avete delle domande fatemene nei commenti ma il messaggio che voglio dare è questo abbiamo perso una delle persone più illustre che siano mai esistite al mondo nel suo campo e l'abbiamo perso per un banale problema di tossicodipendenza perché ripeto avrà avuto anche altri problemi ma questo ha inciso molto per risolvere questi problemi di tossicodipendenza ci vuole una rivoluzione culturale che la smetta di giudicare le persone che hanno questo problema buttandoli la croce addosso colpevolizzandoli e non aiutandoli perché non è una questione di colpa e di merito di salute contrapposta al piacere perché la salute e il piacere sono la stessa cosa e non vanno in conflitto e questa è una cosa che vi siete inventati voi voi moralisti quindi in conclusione se voi siete quelli che fanno la morale a chi beve troppo a chi fuma a chi si sni a chi sniffa qualcosa e non avete invece una soluzione da offrirgli cioè li date solo noi in sostanza sappiate che per l'appunto state facendo solo danno e fareste meglio a stare zitti a farvi da fare i vostri e lasciar lavorare le persone che hanno una competenza in questo senso tra cui a novere ovviamente tutti i medici di psicologi le persone che tutti i giorni ci lavorano pur con i loro limiti e con i loro errori quindi non dico che siete colpevoli voi che dovete sentirvi responsabili moralmente della morte di maradona perché se no sarei come voi alla fine vi darei la colpa vi invito solo a riflettere come diceva qualcuno un bel tacer non fu mai scritto e niente non aggiungo altro è un abbraccio a tutti voi a tutti gli amanti del calcio a tutta l'argentina a tutta napoli e a tutti coloro che soffrono di problemi di dipendenza non sanno come uscirne e si sentono anche giudicati e condannati dalla società tutti i giorni io vi sono vicino e se volete parlarne con me sapete che trovate sempre una persona disposta a rispondere e basta addio diego armando dio te ben gloria e ciao a tutti a